Buongiorno ragazzi, benvenuti ad Europass. Oggi studieremo il presente progressivo, come si forma e come si usa. Come si forma? Il presente progressivo si forma con il presente del verbo stare più il gerundio. Vi ricordate il verbo stare? Vediamo. Io sto, tu stai, lui le sta, noi stiamo, voi state, loro stanno. Bravissimi. Il gerundio, il verbo mangiare diventa ando, mangiando. Il verbo ridere diventa endo, ridendo. E il verbo dormire diventa endo, dormendo. Il presente progressivo si usa per descrivere un'azione che avviene in questo momento, ora. Esempio, io sto parlando e voi state ascoltando. Facile, vero? Buon divertimento! Ciao!